Fino a quando non ci sono riuscito? Sin da giovanissimo ho cercato di aprire un'agenzia di stampa, a volte in maniera convulsa, a volte in maniera ragionata. Fino a quando non ci sono riuscito? Sentivo il bisogno di aiutare la gente a fissare i temi su cui pensare. Perché? Commento. Perché in vite precedenti hai usato la mente come un'agenda dei problemi che contavano per te e in questa vita hai creato un'agenda dei problemi che contano per gli altri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.